La seconda cosa è però, è curioso che questa città, questa provincia, perché tra l'anno stiamo parlando di 40 km da Bari, stia sempre da parecchio, ormai quasi un anno, nell'occhio del ciclo. Il concetto di cui parlavamo sei anni fa era un altro, io sono diventato magistrato a 25 anni, a 27, 28 anni ero alla procura di Agrigento e ovviamente mi resi conto che svolgevo un mestiere per il quale, come posso dire, era impossibile immaginare una totale preparazione o formazione, perché occorreva, come posso dire, che l'esperienza, che la vita riempisse è quella funzione di umanità, di saggezza, di intelligenza e ci è voluto del tempo, perché adesso sono un uomo di 50 anni, allora ero un giovane magistrato di 27 anni, 28 anni, è passato il tempo, ho visto le cose anche dai punti di vista diversi, perché anche il punto di vista, quanta gente parte dal presupposto che lo riguarda, io guardo il mondo del lavoro dal punto di vista dell'industriale che ha una grande fabbrica e ho la mia prospettazione, io guardo il mondo del lavoro dal punto di vista di un disoccupato che non ha mai visto un posto stabile, i giudizi sul sistema economico italiano probabilmente sarebbero molto diversi, un giudice non si può permettere di avere il suo punto di vista, deve assumere la capacità di trovare il punto di equilibrio che alle volte non deve neanche accontentare la piazza, ma deve accontentare un superiore anelito alla giustizia che qualche volta è impossibile da descrivere persino per un grande filosofo o per un teologo, quindi immaginate quanto è complicato per un ragazzo giovane o una ragazza giovane vivere questa dimensione, ciò nonostante io sono del parere che comunque di questo lavoro ci sia assoluto bisogno, perché l'alternativa sarebbe lo scontro fisico tra le persone all'interno di una comunità, i giudici evitano con il loro lavoro che la gente si faccia giustizia da sé. Chiudiamo la parentesi per il momento, forse se capita la riprendiamo, c'è una telefonata, pronto? Sì, pronto? Buonasera Buonasera, sono un cittadino dell'Unione di Apigia, dove è prevista la raccoglia differenziata, ecco io ho notato che molti condomini, anziché tenere i contenitori all'interno del recinto dove sono obbligato a tenerlo, li tengono per strada Ha ragione E nessuno si preoccupa di farli internare come faccio nel mio condominio? No, ha perfettamente ragione, anche se la battaglia a metterli dentro e poi vengono fuori è una battaglia continua, perché come posso dire c'è qualcuno che pensa che questi bidoni all'interno dei condomini e a Apigia spesso questa possibilità c'è, diano dei cattivi odori, danno fastidio, c'è chi dice perché è giusto sotto la finestra del balcone di casa mia, perché non invece da un'altra parte, purtroppo sono anni che lottiamo con questa idea sbagliata, ci sono previste delle multe, delle sanzioni che vengono anche fatte, però in molti casi queste sanzioni, soprattutto nelle case più modeste, dove ovviamente uno può fare la multa, ma se uno non può pagarla, come posso dire, la multa lascia il tempo che trova, come ci si può immaginare, purtroppo c'è ancora questa difficoltà ad accettare un meccanismo di civiltà, perché se i bidoni fossero tutti all'interno dei condomini sarebbe più facile la gestione del sistema della raccolta differenziata e soprattutto sarebbero più decorose e pulite le strade. Marco Diana ci scrive, da un po' che non scriveva, è un nostro affezionato, anche se è uno dei più critici. Da mesi, vedi allegati sotto, segnalo che il totem della sicurezza, quelli gialli per intenderci, ha la videocamera di velta. Ma dove? Purtroppo non ho preso quello che sta sotto, evidentemente fosse scritto sotto, poiché è posto dinanzi all'uscita di una scuola elementare, sarebbe utile averla funzionante, anche il giardinetto è ormai in condizione disastrosa, con panchine di velti, giochi d'otti, eccetera, le solite storie della nostra città, non aggiungo altro, spero si possa intervenire. Mi sto raggiungendo in direzione, ma la Copp forse non è neanche di Marco Diana, è mia, perché l'ho stampata soltanto poco tempo fa. C'è una telefonata per caso? Pronto? Pronto? Buonasera, sono una mamma di San Pasquale, disperata per il proprio figlio che non trova lavoro, ma le volevo dire un'altra cosa, siccome ha avuto un piccolo problema con la giustizia, purtroppo sempre per il lavoro, non lo voglio scusare, però sempre per il lavoro, è andata al comune perché avevano detto che lì si fanno delle piccole domande per questi giovani, per aiutarli. È andato e ha detto che non ci sono domande, per il momento il progetto non c'è. Come dovremmo fare? Il mio figlio è senza lavoro, qui già per le persone diciamo normali, fra virgolette, non si trova. Figuriamoci per questi ragazzi che poi per la prima volta purtroppo si è trovato un po' in roviato, ma non trova lavoro. Allora, quanti anni ha? 27. Allora, cerchiamo un attimo di rimettere i pensieri in ordine. Un attimo, si è spostato pure, ha il mutuo da pagare. Come l'ha fatto il mutuo? Con il suo aiuto? Infatti, infatti. Allora, signora, io non ne nascondo che credo di avere la stessa reazione che avete voi di fronte a queste situazioni, nel senso che mi viene pure a me ogni tanto la disperazione, però stiamo cercando ovviamente di reagire. Adesso sarebbe facile per il sindaco cominciare a dire, per esempio, che in questi anni abbiamo fatto lavorare migliaia di persone nelle centinaia di cantieri che sono stati aperti in città, ma in quei cantieri non lavorano soprattutto tutti quei giovani o quelle giovani o anche qualche volta meno giovani che non hanno dei mestieri precisi. Perché non le nascondo che quando un tempo si abituavano i ragazzi e le ragazze ad avere subito un orizzonte di lavoro chiaro e quindi lì si avviava a delle professioni o a dei mestieri, c'era comunque una facilità di collocazione che era maggiore di quella che noi per esempio abbiamo nei confronti di quelle persone, sintetizzo con un esempio, alle quali quando io chiedo mi rispondono tutto. Ora io non so se questo sia il caso di suo figlio, cioè se suo figlio abbia mai fatto un lavoro, se abbia una specializzazione, se sa fare l'elettricista o sa parlare l'inglese o sa fare il barman. Il dramma, siccome è una guerra che io faccio come tanti genitori di questa città la faccio strada per strada e quindi cerco di dare una mano ed è forse la ragione per la quale suo figlio è venuto in comune, perché è chiaro che in qualche rarissima occasione noi riusciamo a mettere insieme una domanda di lavoro con una offerta di lavoro, ma il consiglio che io darei per esempio a tutte le persone che non hanno un lavoro è di cominciare a definire un proprio profilo imparando a fare bene una cosa, anche a rischio, sto per dire una cosa che non avrei mai voluto dire, anche accettando l'idea di andare a bottega da qualcuno, non dico gratis, ma persino sottopagato, pur di definire un proprio mestiere. Non le nascondo che se per esempio uno è idraulico, vero, ed è capace di fare le azioni principali di un idraulico, un lavoro prima o poi lo trova, se qualcuno è saldatore industriale, prima o poi, anche lì ci sono delle difficoltà enormi e c'è il rischio pure che un bravo saldatore rimanga disoccupato un anno, intendiamoci, però prima o poi una soluzione si trova, se uno è motorista dei pallets o dei montacarichi, in qualche maniera poi una soluzione si trova, il dramma autentico è proprio di quelle categorie di giovani che hanno vissuto in una maniera un po' particolare molti anni, a un certo punto si innamorano, come è giusto che sia, si sposano, mettono al mondo dei figli e queste persone che però fino al giorno prima avevano vissuto, come posso dire, senza particolari responsabilità, si ritrovano sulle spalle una famiglia che a questo punto delle due l'una, o ci sono dei genitori in grado di camparli oppure la storia non va avanti.